ciao ragazzi buonasera vi ricordo questa sera appunto se volete più tempo libero se volete rimettervi in forma e non lamentatevi offro comunque un'opportunità questa sera alle ore 21 e 25 collegatevi perché c'è online un'opportunità è una zoom call di mezz'ora circa e quindi vale la pena spendere mezz'ora comunque sia per valutare quantomeno un'opportunità diversa quindi che dire metterò il link sotto questa nei commenti nei commenti sotto questa diretta e mi rivolgo alle persone che comunque non hanno un lavoro o piuttosto che chi ce l'ha e vuole comunque un guadagno extra ok offro comunque un'opportunità e non ho parlato di lavoro ma di opportunità capirete perché quindi male che va avrete valutato un'opportunità diversa e conoscete la vera azienda in cui collaboro e non puntini 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 ciao ragazzi mi raccomando collegatevi ciao 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 Grazie a tutti.